La polizia stradale lancia un appello per trovare la microcamera che era a bordo dell'auto di Fabrizio Bonacchi, il pilota pistoiese morto durante le prove della cronoscalata Camuccia Cortona lo scorso 6 aprile. Secondo il sostituto procuratore della Repubblica di Arezzo, Laura Taddei, nelle immagini registrate dal dispositivo potrebbero esserci infatti determinanti elementi ai fini delle indagini. Sullo schianto mortale era stata aperta subito un'inchiesta. Oggi la polizia stradale ha fatto un appello a chiunque possa aver trovato la microcamera che era presente sul veicolo ma che non è mai stata ritrovata. Si invita, si legge in una nota diffusa dalla questura di Arezzo, chiunque abbia recuperato il dispositivo a consegnarlo presso qualsiasi ufficio di polizia o carabinieri o direttamente alla procura della Repubblica di Arezzo. Il drammatico incidente si consumò alle 19 dello scorso 6 aprile. L'auto di Fabrizio Bonacchi, 54 anni, si schiantò contro un albero e il pilota morì sul colpo a causa di una frattura riportata alla base del cranio. Oggi gli inquirenti cercano di far chiarezza su tutte le fasi di quel tragico schianto.